Buon lunedì 21 marzo, inizio di primavera, anche se Giancarlo ci ricordava che in realtà la primavera è iniziata ieri sera, intorno alle 19, 19 e 15, adesso non ricordo bene l'orario preciso che Giancarlo ci ha comunicato nei giorni precedenti. Primavera, nascere, non rinascere, ma nascere, nascere ancora una volta, che è ben diverso dal rinascere, perché il rinascere allude a una ripetizione dello stesso, mentre la nascita implica una novità. Noi tutti i giorni nasciamo e dissolviamo ciò che è già stato, ne abbiamo una memoria storica, impressa nella nostra coscienza, nella nostra mente, è una memoria profondamente selettiva. Ma noi dobbiamo imparare che l'esperienza della vita è costante, dissolvimento, superamento e nascita, che significa aprirsi alla novità, a non indulgere nel trattenere ciò che è stato. E questo mi porta alla lettura, sempre della maggioranza deviante, che ho scelto come primo testo del lunedì, nel quale approfondire le matrici, divisione storiche, culturali, che hanno rappresentato il terreno fertile sul quale tante esperienze della seconda metà del Novecento hanno messo in discussione il nostro rapporto con appunto la devianza, la follia, quelli che noi definiamo i disturbi del comportamento. Per i club esemplificati in particolare con quel fenomeno complesso, molto spesso ridotto al termine alcolismo, che in realtà questa parola, l'alcolismo, rappresenta la multidimensionalità dell'esistenza umana, della sofferenza, include in sé i tratti più significativi della nostra presunzione di normalità, il nostro modo di porci al mondo, spesso anche critico nei confronti di chi ci ha preceduto. Noi oggi affermiamo con nettezza il nostro amore per la pace, diversificando le posizioni su come si può ottenere, mantenere, consolidare la pace e ci indigniamo di fronte alla dinamica della guerra, facendo anche dei distinguo. Ieri al seminario ne abbiamo largamente parlato, ci sono gli out-out, che significa o si prende posizione da una parte o si prende posizione dall'altra. Ci sono anche i né-né, cioè non prendere nessuna posizione sostanzialmente, non sono né dalla parte di una condizione né dell'altra. Nella fattispecie non sono né con i russi né con i ceceni. È una posizione molto presuntosa questa. Ma c'è poi l'altra posizione, e-e, che significa un luogo nel quale riconosciamo i necessari distinguo che non ci pongono in una terra di nessuno, ma ci immergono profondamente nella realtà quotidiana. Traduciamo la questione della guerra sulla questione dell'alcolismo. O sei alcolista o sei bevitore normale. Altro non è dato. Non sei né alcolista né bevitore normale. Sei una persona che è consapevole dei danni correlati e che naturalmente sei capace di controllare il tuo bere. È il né-né questo. Quello che piace molto anche al sistema professionale. Quella posizione, poi ipocrita devo dire, dei cultori del bere moderato. Sono i più ipocriti. Poi c'è il radicalismo naturalmente degli astinenti e dei bevitori incoercibili, da parte di se stessi, non da parte di qualcuno. Non riescono a emendare il loro comportamento. Ma che significa che un po' di moderazione, un po' di alcolismo c'è in tutti noi. Questa idea del controllo è ampiamente presente e non è detto che sia un'idea sana, perché anche il controllo molto spesso è una forma di virtù che anche i sistemi di cura cercano di coltivare. Penso all'utilizzo di farmaci per contenere il desiderio di bere. Penso ai luoghi della disintossicazione. Ma questi sono forme un po' sciocche, devo dire, per non mettere in discussione l'idea del controllo, che in primis è rappresentato appunto nella virtù espressa e molto spesso anche autoesaltata della propria capacità di bere. No, ma guardate, io sono una persona, questo si sente dire, che non è mica come quello che strabeve, io sono controllato. Mi viene in mente quella che distingo piuttosto grottesco nel tempo della prima ondata dell'epidemia globale nel quale si distingueva l'angoscia dalla paura. Eravamo tutti impauriti, ma naturalmente eravamo legittimati da questo. E se poi si manifestava la dimensione dell'angoscia come forma di incapacità di accettare ciò che stava accadendo, dandoci delle ragioni, anche delle responsabilità rispetto all'accadimento e cercando di trovare delle soluzioni un po' più complesse del riduzionismo che è stato applicato. Ebbene, allora saltavano in cattedra subito i grandi esperti. No, no, io sono angosciato, sono paura, quindi non sono una persona che si metterà in discussione. Mi blinderò senza mettere in discussione il modo di comportarsi, il modo di costruire la società. ma voglio tornare come appunto ogni lunedì e ripetendo un passaggio che è a conclusione del capitolo che avevamo incominciato a leggere. Laddove sta scritto cose già ricordate, ma li voglio riprendere oggi con l'inizio del nuovo capitolo. Oggi per me è la giornata del club e spero che i club abbiano la forza, la capacità, l'intelligenza, l'entusiasmo. Padre Danilo ricordava in una trasmissione sabato mattina lo slancio, bellissima parola, lo slancio, andare in club con lo slancio, con questa proiezione verso il futuro, con questo entusiasmo nonostante i tempi di crisi, anzi, meglio ancora, nei tempi di crisi entra la luce, quella dimensione che c'era forse mancata, ci aveva fatto chiudere gli occhi, vivevamo in una oscurità rassicurata, ma oggi c'è lo slancio che ci porta oltre i confini della nostra esistenza verso un futuro che è un nascere, ancora una volta con entusiasmo e questo dovrebbe essere lo spirito di partecipazione al club, nonostante le difficoltà e molto spesso noi cerchiamo gli errori in ciò che ci ha preceduto, in chi ci ha preceduto, è la caccia agli errori, viene scritto nella maggioranza deviante, di chi ci precede, ma non solo di chi, ma di che cosa ci precede, senza includere noi stessi in questa critica e questo è un discorso molto opportuno. Nel momento in cui sono in un club ho trovato una mia stabilizzazione, sono astinente, critico ciò che è precedente e presumo di essere una posizione di ritrovata normalità, critico ciò che precede e non metto in discussione il presente. Guardate che questa modalità può portare a una cristallizzazione intorno all'astinenza e rendere il club se abitato soltanto da cristallizzati intorno all'astinenza e questa dimensione devitalizza il club perché noi dobbiamo metterci in discussione sempre e comunque perché l'idea folle del controllo è la matrice della nostra cultura ma anche di quelle che ci hanno preceduto e se noi pensiamo di essere diventati improvvisamente probi ecologisti non dimentichiamoci mai che l'ecologia ci chiede una costante rivisitazione della nostra esistenza affidarla alla crescita e alla maturazione al processo evolutivo allora questa frase è la caccia agli errori di chi ci precede senza includere noi stessi in questa critica consentendoci di salvarci ci consideriamo i salvati ma Primo Levi ci ricorda che siamo sempre costantemente sommersi e salvati come se non fossimo presi in questo stesso gioco il gioco del passato continua a persistere certo dobbiamo guardarlo con spirito nuovo e qui partono una serie di domande che esemplificano una condizione storica e si sottolinea come l'accento deve cadere sulla esperienza e non sul comportamento come noi sperimentiamo la nostra presenza al credo non soffermiamoci solo sul comportamento ma in che modo qui guardate è del 72 il testo ascoltato la conferenza nazionale Eico si è parlato molto di rete come se fosse il luogo salvifico ma la rete può essere un luogo anche di ingabbiamento di prospettive evolutive ma in che modo il network appunto la rete riuscirà a salvaguardare una sola esperienza che voglia sottrarsi alla totalizzazione dei comportamenti progettata dal capitale sapremo nella rete tutelare l'esperienza di ciascuno senza trasformarla in una forma di auto assoggettamento di conformismo rispetto a un comportamento che è funzionale a questo modello di sviluppo possiamo anche diventare astinenti ma non sobri se non mettiamo mano al senso della nostra esperienza non basta modificare il proprio comportamento è essenziale è fondamentale ma non deve tradursi questo in una forma di omologazione in che cosa è diverso il controllo del terapeuti che si dichiara non terapeuti non terapeuta nel rapporto con il paziente non paziente ecco nel suo essere colui per mezzo del quale il malato può vivere la propria esperienza domanda difficilissima cerco di tradurvela in che cosa è diverso questa forma inevitabile di dominio che va contemporaneamente superato perché la tendenza anche del servitore insegnante di assumere una posizione di riferimento anche se catalizzatore ricca sempre di correre verso la direzione del controllo del dominio ma deve saper vivere l'essere servitore terapeuta vuol dire la stessa cosa e non esserlo anche essere non terapeuta non servitore cioè mettersi in gioco questo è il punto fondamentale allo stesso modo il quale va il club con l'idea di dover guarire da qualcosa allo stesso tempo deve recuperare in pienezza la sua normalità entrambi servitore insegnante e membro di club non servitore insegnante ma non paziente allo stesso tempo paziente devono entrambi vivere l'esperienza siamo ancora una fase di capovolgimento del più o del meno il capitale tende già a unificarli cioè non il capitale vuole omologare il mondo professionale con i suoi sistemi diagnostici vuole omologare il rovescio della devianza è qui la malattia come valore questo è un rovesciamento dei rapporti di significato la crisi psicotica come salute rate non è che si afferma qui che la psicosi non esiste ma la psicosi va collocata nella dinamica evolutiva della vita della salute appunto la crisi psicotica l'integrazione della pazia nella società non soltanto dentro di noi in ciascuno di noi ma nella società ne vediamo immagini in questi giorni dopo la sua secolare segregazione divisione vedete divisione o sintesi che pretende di superare la contraddizione perché il le e è effettivamente la compresenza del riconoscimento di una condizione e del suo contrario la convivenza con la folia dopo la sua totale esclusione esclusione che è in corso anche in questi nostri anni da parte delle dinamiche istituzionali ma non solo anche quelle private siamo di fronte alla conferma della esasperazione dei contrari ma questa è la condizione della vita e apro a un capitolo molto difficile che cercheremo di approfondire nel corso dei prossimi lunedì e che ci porterà anche al seminario del 10 aprile mai come oggi viene scritto diceva Arto introducendo il teatro e il suo doppio la vita è un teatro e ha sempre il suo doppio si è parlato tanto mai come oggi si è parlato tanto di civiltà e di cultura avete presente lo scontro tra le civiltà le culture diverse quella quota di razzismo che ciascuno dentro ciascuno di noi mai come oggi si è parlato tanto di civiltà e cultura quando è la vita stessa che ci sfugge sì questo è un punto fondamentale è la vita che ci sfugge ci concentriamo sulla civiltà sulla cultura ma eludiamo la questione della vita un bello spettacolo teatrale di danza si concludeva con una voce fuoricampo nel quale la vita parlava e ci ricordava che la vita è prima di noi e può esserci senza di noi ma noi non possiamo esserci senza la vita e c'è uno strano parallelismo tra questo franare generalizzato della vita che è alla base della demoralizzazione attuale demoralizzazione attuale abbiamo il morale decisamente basso non è soltanto un libertinaggio dei costumi siamo demoralizzati perché abbiamo abbandonato la matrice della nostra esistenza la nostra generatrice che sarà dopo di noi la vita e i problemi di una cultura che non ha mai coinciso con la vita e che è fatta per dettare legge alla vita prima di riparlare di cultura voglio rilevare che il mondo ha fame e che non si preoccupa della cultura solo artificialmente si tende a stornare verso la cultura dei pensieri che si rivolgono verso la fame fame che è un significato reale concreto fame di gran parte di questo pianeta ma anche un valore immensamente simbolico e l'invito oggi che la maggioranza deviante ci introduce è quello di porre attenzione nei confronti della vita non pretendere di dettare legge alla vita stessa e questo dovrebbe essere uno degli elementi costituenti il nostro modo di stare in un sistema di cura del prendersi cura non siamo chiamati a costruire una nuova cultura ma attenuare la presa della cultura sulla vita ripristinare la valenza biodinamica la valenza corporea della vita stessa ecco questo è un punto credo di partenza importante per una nascita la primavera che è la vita non che nell'inverno la vita sia stata sospesa a continuare ha continuato a esistere a intessere trame della nuova nascita che è la primavera e oggi siamo chiamati appunto a vivere intensamente nella sensualità nei sensi nella dimensione erotica sessuale intresa di vita di potenzialità e questo ci potrebbe sicuramente portare alla rivisitazione della nostra esistenza demoralizzata come sta scritto una maggioranza deviante e invece capace di generare un nuovo nostro modo di essere nella vita stessa nella dimensione intensa dell'amore buona giornata a tutti